ben trovati a tutti i tre spettatori della nicosia queste nuovezze flash provinciale del 10 novembre curate dalla nostra redazione il consiglio comunale di nicosia ha deliberato all'unanimità il primo passo per tornare ad una gestione dell'acqua pubblica un consiglio comunale aperto che ha visto la partecipazione di diversi esponenti politici insieme alle associazioni invitate dal presidente del consiglio ad intervenire nel civico consesso la proposta di delibere derivata da un lavoro fatto all'interno del consiglio comunale dei consiglieri di maggioranza spedale di costa scinarda e zappia che all'inizio di settembre presentarono una mozione ma anche esternamente dal meetup nicosia 5 stelle che nei giorni scorsi aveva organizzato un incontro per chiarire alcuni aspetti della legge regionale 19 2015 che ha aperto alcuni spiragli per il ritorno della gestione all'acqua pubblica affinché la scelta possa essere operativa servono comunque che si verifichino alcune condizioni la prima richiesta della legge è quella che si costituisca un subambito territoriale con altri comuni la seconda è che la stessa legge non venga modificata da parte del governo centrale sulla possibilità che i comuni possono gestire attraverso il subambito il servizio idrico secondo la legge regionali comuni entro 90 giorni della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della regione siciliana dovevano emanare una delibera motivata per dar corso alla procedura della gestione diretta pubblica e associata dell'acqua contestualmente alla delibera che applica l'articolo 5 comma 6 della legge regionale 19 2015 è stato approvato anche un emendamento richiesto al consigliere luciano spedale che prevede l'articolo 12 della stessa legge la formazione di commissioni tecniche allo scopo di verificare eventuali inadempimenti contrattuali sulla base delle convenzioni stipulate con i gestori idrici privati al dibattito sono intervenuti l'onorevole matteo mangiacavallo del movimento 5 stelle estensore della legge regionale che ha spiegato alcuni aspetti tecnici della normativa vigente pippo bruno di al suo consumatori un rappresentante dei forum dell'acqua ma anche sindaco e vice sindaco di nicosia che hanno appoggiato la delibera il comune di nicosia è il terzo della provincia dopo piazzare mirina ed aggira ad approvare questo tipo di delibera nei mesi scorsi è emersa la possibilità che in sicilia in particolare in provincia di enna possa sorgere il deposito nazionale delle scorie radiattive questa notizia di stampa è emersa dopo le dichiarazioni giuseppe regalbuto presidente della commissione delle miniere all'urps immediatamente la maggior parte dei comuni e dell'ennese deliberarono tramite i sindaci i consigli comunali la denuclearizzazione del territorio anni così il sindaco bonelli emise ad agosto un'apposita ordinanza sindacale per dichiarare nicosia comune denuclearizzato tutte le forze politiche di maggioranza ed opposizione hanno presentato mozioni per la denuclearizzazione di nicosia per far sì che il consiglio comunale si esprimesse in tal senso il meetup nicosia 5 stelle presentò due richieste oltre che per la denuclearizzazione anche per integrare l'ordinanza sindacale con l'inserimento di altre categorie di rifiuti pericolosi per far evitare quanto avvenuto ad esempio in campania nella terra dei fuochi il dibattito ha visto protagonisti giuseppe regalbuto che ha ribatito quanto dichiarato quest'estate alla stampa l'onorevole giancarlo cancelleri del movimento 5 stelle presidente della sottocommissione regionale per le miniere dismesse che ha sottolineato l'importanza di allargare il divieto di sversare o depositare non solo rifiuti nucleari ma anche quelli altamente pericolosi anche il rappresentante del meetup nicosia 5 stelle salvatore maugeri membro della commissione trasporti del meetup ed autore dell'emendamento all'ordinanza ha spiegato le motivazioni dell'importanza dell'integrazione di questa ordinanza la delibera è passata con il voto unanime dell'intero consiglio comunale al sindaco di nicosia è stato dato il mandato di valutare caso per caso anche le categorie dei rifiuti pericolosi inserite nella mozione richiesta dal meetup nicosia 5 stelle i sindaci di n nicosia nissoria e troina hanno emesso un'ordinanza con la quale vietano a tutta la cittadinanza con effetto immediato e fino a nuova disposizione di utilizzare l'acqua della rete idrica per uso potabile i problemi dall'impianto di potabilizzazione della digancipa così come comunicato da sicilia acque hanno infatti causato un eccesso di torbidità dell'acqua ed un parametro di manganese oltre i limiti della legge al fine di salvaguardare l'igiene e la salute pubblica e di scongiurare la possibile insorgenza di problematiche di natura igienico sanitaria invitano i cittadini alla cautela ed alla massima osservanza dell'ordinanza i lavoratori del candela dell'otto b4 per il riamodernamento della strada statale 117 nord sud questa mattina hanno scenato una piccola protesta poiché gli stessi non percepiscono lo stipendio da due mesi e la ditta appaltatrice a causa di vicende giudiziarie in cui è coinvolta non fornisce materiali e anche il gasolio per i mezzi quindi i lavori in questo cantiere sono fermi e la situazione si fa sempre più tesa questa condizione quindi sta penalizzando un cantiere che stava proseguendo a gonfia e vele e i cui lavori sembravano non fermarsi tanto che molte gallerie artificiali e azioni varie erano quasi pronte insomma piove sul bagnato sulla statale 117 presenti alla protesta anche le sigle sindacali con la filea cgl e la filca cis che hanno già ottenuto un incontro col sindaco di mistretta per martedì mattina alle ore 10 e 30 e successivamente anche con il sindaco di nicosia proprio per parlare di questa spiacevole situazione che si ripresenta dopo le problematiche legate all'otto b2 che come ben sappiamo è fermo dal lontano 2012 benissimo i lavoratori da due mesi non prendono lo stipendio e quindi abbiamo fatto oggi un'assemblea qua con tutti i lavoratori domani mattina andremo dal sindaco di mistrette subito dopo dal sindaco di nicosia per alcune iniziative perché oltre lo stipendio dei lavoratori che in questo momento non hanno percepito da due mesi noi ci teniamo moltissimo a quest'opera già come ha detto in precedenza il lotto b2 è completamente fermo a causa delle note vicende quindi non vogliamo che anche questo lotto si ferma e rimane un'opera incompiuta purtroppo le vicende giudiziarie che hanno visto coinvolti i due maggiori titolari della tecnis rischiano di bloccare completamente questo cantiere il lotto b4 così come è successo già per altri due lotti su questa su questa importante strada che purtroppo non ha avuto non ha avuto grande fortuna noi chiediamo chiediamo a tutte le istituzioni abbiamo già coinvolto i sindacati regionali e nazionali per coinvolgere il ministero dello sviluppo economico e l'assessorato regionale del competente per cercare di sbloccare una situazione che dal punto di vista legale è molto ma molto complicata perché nel momento in cui la tecnis oggi deposita i libri in tribunale attivando le procedure della legge fallimentare per la ristrutturazione dei debiti il rischio se veramente non si interviene seriamente nei confronti delle istituzioni è quello che questi lavori si blocchino e che i lavoratori che avanzano già due mesi di retribuzione continuano a restare senza retribuzione. In tutto ciò i lavoratori dell'otto b4 sono senza stipendio da due mesi e rischiano di non percepire nemmeno la terza mensilità e per molti di loro che vengono anche da fuori provincia arrivare sul posto di lavoro diventa molto complicato senza dimenticare il fatto che anche mettendoci la buona volontà gli operai non possono continuare con i lavori per mancanza di materiale e di gasolio. Secondo me il nostro problema principale sono anche comunque le materie prime che non arrivano in gandiere. Io prego le istituzioni, prego chiunque abbia in mano questa legislatura di velocizzare di non fare morire l'azienda perché l'azienda siamo tutti noi e di comunque aiutarci i sindaci di venire qui, di venire ad attenzionare la situazione perché sinceramente parlando noi qua siamo per lavorare. Chiediamo solo il lavoro, chiediamo che le istituzioni vengano a visionare chiediamo che le burocrazie si velocizzano perché a questo punto noi se ci fermiamo praticamente non ripartiamo più. Dopo tutto ciò una riflessione è d'obbligo. In questi giorni abbiamo sentito parlare di ponte sullo stretto, di un aeroporto sui Nebrodi e tanto altro ancora, ma un'arteria che poteva diventare di fondamentale rilancio per un intero territorio rischia seriamente di vedere compromesso l'ennesimo cantiere. Quindi, perché non agire sul concreto invece di parlare di opere faraoniche che nel caso remoto in cui venissero realizzate rischierebbero di diventare cattedrali nel deserto? Dopo 126 giorni di permanenza e oltre 7.000 ospiti provenienti da tutto il mondo la mostra fotografica Robert Capa in Italia 1943-44 dedicata al più grande fotoreporter di guerra di tutti i tempi in esposizione alla Torre Capitania di Viconte Ruggero a Troina dal 5 luglio scorso chiude i battenti con un successo straordinario. L'evento organizzato dal Comune in collaborazione con la Fondazione Alinari e il Museo Nazionale di Butapeste con il patrocino dell'assessorato regionale al turismo dell'Assemblea regionale siciliana Parco de Nebrodi e azienda speciale Silvo Pastorale con gli sponsor di SNAM, Rete Gas, Banca di Credito Operativo la riscossa di Ricalbuto, Mandarino e Gemmo e S.P.A. è stato prorogato dal 30 settembre scorso fino all'8 novembre per dare possibilità di visitarla anche agli studenti delle scuole di tutta la Sicilia. La permanenza dell'esposizione delle 78 foto in bianco e nero molte delle quali scattate in città durante la sanguinosa battaglia di Troina combattuta tra il 31 luglio e il 6 agosto del 1943 e cui è stata dedicata un'intera sala espositiva ha registrato un vero e proprio boom di visite 7.030 visitatori provenienti da 275 città diverse e da 22 paesi stranieri 19 gruppi organizzati giunti da tutte le province dell'isola e 69 i gruppi scolastici appositamente venuti da diversi istituti della Sicilia numeri di ingresso censiti all'ingresso della biglietteria a cui vanno raggiunti quelli incalcolabili dei numerosi ospiti al di sotto dei 18 anni il cui ingresso alla mostra è stato gratuito un bilancio più che positivo per una cittadina di 10.000 abitanti nell'entroterra siciliano con una viabilità dissestata e precaria che nulla da invidiare alle presenze registrate nelle grandi città italiane in cui la mostra è stata precedentemente esposta 18.000 visitatori a Milano, 10.000 a Firenze e 20.000 a Genova e con questo abbiamo concluso vi do appuntamento alla prossima edizione delle unizie flash curate dalla redazione di Telenicosia per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione chiocciolattelenicosia.it un saluto da Sergio Leonardi grazie a tutti grazie a tutti